Allora, che è successo? Vi spiego. Allora, questa settimana ho fatto un sacco di cose. Sono andata in moto da cross. Sono andata in moto da cross. Sono andata a cavallo. Sono andata in mezzo ai delfini. Sono andata su e giù per l'Italia. Poi arrivo a casa e decido di fare un aperitivo con gli amici. Quindi che faccio? Prendo le olive e le lavo. Lavo le olive e le metto nella ceramica. La ceramica scappa e mi taglia praticamente qua un pezzo di mano e un pezzettino di dito, questo qui. Quindi d'ora in poi continuerò ad andare in moto da cross, ma non laverò mai più le olive. Va bene? Però tutto a posto. Bene, me rientro.